Eccola la via, piena di negozietti, di ristorante e pizzeria Lago Maggiore, su per giù ci siamo, è ora, c'è il bagno qui, su sta piazzetta qua dietro c'è il bagno pubblico, segnalazioni fondamentali per molti, sta qua, e là c'è Arona. Cartoline a go go, qui iniziamo a ragionare, qui tutte ristoranti e pizzeria, ottimo, pasta martagliata, fatta in casa. Estrante mezzo volo. Cartoline, cartolone, ah devo prendere il calendario per fortuna, calendario, bene bene. Vineria, bistro, ristorante e la spresa, mi sono purtroppo aggregato con le cariatiri, ristorante, ristorante e la spresa, altre cartoline, qui ci sono anche i souvenir, Murano souvenir, perché Murano? In effetti sta qua vicino, beh, neanche tanto. Ci sono stato all'inizio dell'estate a Murano, tra un po' lo vedrete sul canale, per adesso sto pubblicando i primi di Venezia, tra un po' arriva anche Murano, qui a destra una celateria, sto fissati con me, oh fissi eh, mi infilo su sto ristorante qua, non c'è nessuno, ma che si mangia malissimo, ho visto che c'è il minestrone e le gozze, ah stanno tutti dentro sti strinzioni. Io mi voglio mettere qui, non c'è nessuno, non mi rompo il cazzo, vediamo un po' se ci riesco, gopro arresta video, gopro arresta video. Alla fine del corso, purtroppo il nome non me lo ricordo, ho preso un sacco di roba, minestrone, gozze, formaggio, vino, acqua, c'è anche internet. stanno tutti sulla terrazzina Pogli, che sta qua dietro, qui invece ho visto dalla strada, che non c'è nessuno, per me è un invito a nozzi. sono sdimenticato di farvi vedere le gozze, le gozze con il sugo di pomodoro, eccezionale, questo è il cagio, ho finito pure il cagio adesso, mi spiace, ho visto comunque il minestrone, gozze, cagio, buono, ottimo. Ragazzi che magnata, è andata bene, trattoria, oh ma già mi ricordo più il nome, comunque su questo vicolo, il minestrone, le gozze e il formaggio, mezzo litro di vino della casa e un 75, 75 di acqua non gassata, 36 euro, ci sta, va bene. purtroppo mi era rimasta dall'ultima registrazione la GoPro accesa, quindi ho fatto un video in 20 minuti e mi sono fottuto anche la seconda batteria, per fortuna che ne ho 7, quindi in macchina, quindi non ci sono problemi. macchina all'ombra poi tra l'altro dovrebbe essere all'ombra. sono mezzo sbornio perché mi sono fatto quasi tutto il mezzo litro di vino, ma la macchina la riprenderò fra un'oretta e mezza due, voglio fare il volo del drone, fammi l'ultima bella passeggiata qui a Stresa, vi faccio vedere tutto com'è fatta, quindi qui non so cosa c'è, va un po' verso l'interno Stresa, però penso che il corso con i negozi era quello e finisce lì, e qua dovrebbe essere tutte case. questo in base alla piantina che ho stampato da TripAdvice, dove 3-4 cose da vedere sono solo lì lungomare, e adesso infatti andiamo là, perché qui ecco, tecnicamente c'è un cazzo, santi Dio. qui perché passeggiano però, tra un po' è l'ora del gelato. adesso il problema è vado all'isoletta, prima che sia troppo tardi, alle 18 c'è l'ultimo traghetto dall'isola per tornare qua, o vado verso su, verso Verbagna dovrebbe essere la prossima tappa, e questo non lo so, questo non lo so, ma dove mi sto infilando? che bello! che bello! compro, arresta video! compro, arresta video! grazie. grazie, grazie a tutti.